buongiorno ragazzi la scorsa volta abbiamo visto come la mutazione sia stata la chiave della nostra evoluzione è sopravvissuto ciò che era più adattabile e si sono estinte quelle forme meno capaci di farlo peccato per i dinosauri però diciamo che la convivenza con la razza umana sarebbe stata problematica almeno con certi esemplari giganteschi ma mi piace immaginarlo in realtà oltre che nei loro discendenti come uccelli e cocodrilli i dinosauri sono ben vivi in molte opere di fantasia già nel 1864 jules verne nel suo viaggio al centro della terra immaginò un mondo sotterraneo in cui i dinosauri erano sopravvissuti ma torniamo ai nostri antenati le prime scimmie antropomorfe cioè di forma simile a quella umana come sapete sono state definite ominidi da loro derivano i gorilla gli scimpanzè gli oranghi e in direzione evolutiva differente gli uomini grazie al pollice opponibile cioè il pollice che si può piegare e congiungere con tutte le dita della mano gli ominidi afferravano e trasportavano il cibo potevano difendersi e tenere in braccio i loro cuccioli e poi cos'è successo circa due milioni di anni fa all'inizio dell'era quaternaria che continua ancora oggi in un periodo definito paleolitico o della pietra vecchia da un particolare tipo di australopithecus un nuovo genere definito homo si differenziò per le dimensioni maggiori del cervello rispetto al corpo per il miglioramento della posizione eretta e le braccia meno lunghe che non servivano più come appoggio nella camminata per la mandibola sempre meno sbilanciata in avanti che favorì un graduale sviluppo perfezionatosi nell'homo sapiens degli organi che permettono di parlare alcuni tipi di homo sono vissuti contemporaneamente alla fine però l'homo erectus l'homo ergaster l'homo habilis e l'uomo di neandertal si sono estinti l'homo sapiens il tipo cui apparteniamo anche noi continua ancora oggi la sua evoluzione non ricorderò mai questi nomi complicati vediamo di semplificare da 4 a 2 milioni di anni fa circa troviamo l'hominide australopiteco da 2,5 milioni fino a 1,5 milioni di anni fa l'homo habilis cioè abile capace di usare bene le mani e scheggiare la pietra da 1,9 milioni a 200 mila anni fa l'homo ergaster che significa uomo lavoratore dall'africa si usa in asia ed europa dove è stato chiamato dagli studiosi erectus eretto da 300 mila fino a 30 mila anni fa visse l'uomo di neandertal adattatosi alle glaciazioni da 200 mila anni fa fino ad oggi l'uomo sapiens l'uomo sapiente cioè che sa intelligente ma quindi di quale epoca parliamo sono tempi lunghissimi l'evoluzione di queste diverse specie si colloca nella lunga fase del paleolitico che come sappiamo è detta età della pietra antica si perfeziona nel mesolitico o media età della pietra e nel neolitico o nuova età della pietra vedremo nella prossima lezione come l'uomo andò sviluppando le sue abilità e colonizzò gradualmente il pianeta sfruttandone le risorse forte sembra un videogioco a livelli bene come lavoro individuale documentatevi sulla storia dell'australopiteco lusi la scoperta dei resti fossili di lusi nel 1974 fu straordinaria perché di solito i paleo antropologi scoprono pochi frammenti di ossa mentre in questo caso ne vennero trovati quasi la metà dell'intero appalato scheletrico dell'ominide appartenente alla specie australopitecus afarensis lusi visse in africa tra i 4 e i 3 milioni di anni fa una curiosità la scelta del nome lusi deriva dal titolo della canzone lusi in the sky with diamonds dei beatles che veniva ascoltata ripetizione al campo degli scavi raccogliete informazioni e scrivete un articolo su lusi come un giornalista che annuncia un ritrovamento importantissimo ciao